Babbo Natale quest'anno non è stato avaro di regali per il comune di Montepulciano. Sotto l'albero infatti il comune del vino nobile ha trovato due bei pacchetti regalo arrivati da Firenze. L'amministrazione regionale infatti in un sol colpo ha deliberato finanziamenti per Montepulciano per quasi un milione di euro, 650 mila per il progetto Restauro Fortezza e altri 200 mila destinati invece alla messa in sicurezza stradale. Buone notizie insomma che presto saranno fatte benfruttare dall'amministrazione di Andrea Rossi. Buone notizie però in uno scenario di politica nazionale che secondo lo stesso primo cittadino non è affatto incoraggiante. Noi comprendiamo che probabilmente non è più possibile aumentare la pressione fiscale locale nei confronti dei nostri cittadini anche perché tra l'Imu e le altre tasse locali naturalmente comprendiamo che in un momento di grande crisi economica come questo siamo veramente al limite massimo. Il rischio a questo punto è proprio quello che ulteriori tagli mettano però in discussione l'erogazione dei servizi e quindi tagli che probabilmente dovranno riscontrarsi nel 2012 in alcuni tagli dei servizi. Mi auguro che questo con l'approvazione definitiva della legge di stabilità possa essere evitato. So che Anci sta lavorando su questa ipotesi, qualche segnale positivo l'abbiamo avuto. Speriamo quindi che in qualche maniera di poter riuscire a vedere diminuito sensibilmente il taglio delle risorse a livello centrale e quindi naturalmente poter continuare a livello di welfare locale ad erogare i servizi che il Comune di Montepulciano ha erogato fino al 2012. Speriamo che il Comune di Montepulciano ha erogato fino ad un'altra parte del Comune di Montepulciano. Grazie.